Nel film Robin Hood, un uomo in calzamaglia, lo sceriffo di Routingham impugna un guanto di stoffa per schiaffeggiare Robin Hood e sfidarlo a singolar tensone. Ma Robin, dal canto suo, risponde menando un poderoso ceffone in faccia allo sceriffo con un pesante guanto di ferro. Quello del guanto di sfida, a giudicare dai film al cinema, sembrerebbe uno dei tanti falsi miti sul Medioevo. Eppure, qualcosa di vero c'è. Il guanto di sfida, detto anche guanto di battaglia, comparve sulla scena italiana sul finire del XIII secolo, quando i cronisti cominciarono a descrivere inviti alle armi particolarmente teatrali. Di guerre scoppiate a suon di provocazioni ce ne sono state un'infinità. Io stesso ne ho raccontate molte. Le sfide di guerra erano lanciate in svariati modi, alcuni dei quali davvero originali, ma dal momento in cui le compagnie mercenarie straniere cominciarono a percorrere l'Italia in lungo e in largo, furono introdotti nuovi rituali. I tedeschi, in particolare, sembravano i più attenti alla gestualità e alla teatralità, come ci racconta Matteo Villani nella sua cronaca. Conrad Folf von Fulfort, italianizzato dai cronisti in Corrado Lupo. Era un condottiero di ventura tedesco, distanza in Italia, alla guida di compagnie mercenari che compivano le loro scorrerie, tra Campania, Puglia, Molise, Abruzzo. Nell'anno 1348 si trovava in guerra con re Luigi di Taranto, il re di Napoli, durante la sanguinosa contesa che affliggeva la dinastia regale degli Angioini. Era stato assoldato da re Luigi d'Ungheria, poiché suo fratello, Andrea d'Ungheria, che era reggente al trono del regno di Napoli, si dice che fosse stato assassinato proprio dagli Angioini. Ed ecco che in questa complicata situazione, Corrado Lupo, tramite una sua trombetta, ovvero un messaggero, come viene chiamato nella cronaca, fece recapitare un guanto di sfida al re di Napoli. Il re, preso dall'orgoglio, senza consultare i suoi uomini, lo accettò promettendo battaglia. Corrado Lupo, con la sua compagna di mercenari tedeschi e i cavalieri ungheresi, si schierò nella piana antistante il castello di Lucera, pronto a dar battaglia campale contro gli Angioini di Napoli. Ma il tempo passava e nessun nemico si presentava sul campo. Re Luigi di Taranto, che aveva tutta l'intenzione di incontrare il nemico ungaro tedesco, forte anche di una certa superiorità numerica, non aveva trovato l'appoggio dei suoi alleati e, ritrovatosi solo, fu costretto a ritirarsi fra lo scherno dei tedeschi di Lupo, i quali, schierati sul campo, faceano vergogna al re. Corrado Lupo, con i suoi tedeschi e ungari, rimase tutta la mattina sul campo in attesa, facendo tuonare tamburi e trombe per invitare la gente del re alla battaglia. Ma, vedendo che non arrivava nessuno, i mercenari si spostarono in massa, verso Foggia, poco distante, e la saccheggiarono, facendo bottino, vettovaglia e delle donne maritate del pulzelle la loro sfrenata volontà. L'impegno del guanto di sfida, per quanto simbolico e importante, era stato quindi disatteso. La politica ha sempre avuto più peso dell'onore, anche quando vi era in balo la dignità di un'intera dinastia e del suo sovrano. Ma non fu l'unico caso del genere. Nella guerra tra Siena e Perugia, un guanto di sfida venne recapitato ad Anichino di Bongardo, ovvero Hanneken von Baumgarten, condottiero e mercenario tedesco, che fu italianizzato così, e a quel tempo combatteva al sodo dei senesi. Egli, vana glorioso, accettò il guanto e fece suonare gli strumenti di guerra, promettendo battaglia ai perugini. Tuttavia, anche in questo caso, i suoi alleati, nonché i suoi stessi datori di lavoro, si trovarono in disaccordo. I senesi non volevano ingaggiare battaglia, poiché impreparati. Dunque, dopo che il loro condottiero tedesco aveva raccolto il guanto di sfida, tentarono di risolvere la questione inviando un altro messaggio, suggerendo al nemico di incontrarsi dopo otto giorni e guadagnare così del tempo prezioso. Ma il nemico, ricevuta risposta, capì di essere in vantaggio e si schierò subito, per colpire i senesi prima ancora che riuscissero a organizzarsi. Questa mossa viene giustificata dall'autore della cronaca come una dimostrazione di forza che avrebbe garantito ai perugini un vantaggio diplomatico successivamente, nel momento in cui sarebbe intervenuto a Firenze, nelle fasi delle trattative, raffinatezze politiche che mai ci sogneremmo di trovare nel sudicio e buio medioevo italiano, ma che invece sono presenti in gran numero e che io non ho dimenticato di inserire nei miei romanzi, come nella Stirpe delle ossa e nella Canzone dei morti, dove le strategie politiche si dimostrano ancor più pericolose di spade e bombarde. L'ultimo episodio che voglio citare riguardo il guanto di sfida è forse quello più dettagliato di tutti, dove finalmente abbiamo una descrizione concreta del guanto e di come veniva presentato all'avversario. Ancora una volta i personaggi che fanno uso di questi rituali bellici sono loro, i mercenari tedeschi, stavolta capitanati dal conte Lando, celebre condottiero il cui vero nome era Conrad Wirtinger von Landau. Il conte Lando, con grande trambusto di trombe, inviò i suoi messaggeri al campo fiorentino per consegnare un guanto di sfida molto particolare. Era un guanto sanguinoso, tagliato in più parti e adagiato su una frasca spinosa. Il simbolismo è chiaro. Ci troviamo di fronte a una sfida all'ultimo sangue, col chiaro intento di spaventare il nemico e probabilmente di comunicargli che non verranno fatti prigionieri. Il capitano dei fiorentini però accettò il guanto di sfida col sorriso sulle labbra e per letizia di tutto l'oste pronunciò pure un discorso dal sapore cinematografico. Il campo è piano, libero e aperto intra loro e noi e pronti siamo e apparecchiati a nostro podere a difendere ed esaltare il campo in nome e onore del Comune di Firenze e la giustizia sua e per nien'altra cagione qui siamo venuti se non per mostrare con la spada in mano che i nemici del Comune di Firenze hanno il torto e muovonsi male senza niena cagione di giustizia o ragione di guerra e pertanto speriamo in Dio e prendiamo fidanza e certezza da avere vittoria di loro e a chi manda il guanto direte che tosto vedrà se l'intenzione sua risponderà alla fiera e aspra domanda. Un po' ampolloso e barocco da ascoltare per noi oggigiorno magari anche un po' difficile da comprendere come discorso però suona decisamente bene e anche abbastanza aggressivo. Stando alle fonti italiane del XIV secolo il guanto di sfida era dunque un invito impiegato prevalentemente in guerra spesso ignorato in favore di priorità più importanti dell'onore individuale cosa che però non poteva essere fatta nei duelli. Nell'anno 1435 in prossimità del ponte dell'Orbigo sulla via di pellegrinaggio per il santuario di Compostela un araldo affisse una lettera d'armi che annunciava l'inizio di un gioco un nuovo pass d'arm indetto da un cavaliere spagnolo un campione spagnolo tramite questi 22 capitoli ovvero regolamenti che spiegavano le modalità dello scontro questo campione spagnolo si impegnava a sfidare i cavalieri che volevano attraversare il ponte chiunque si fosse rifiutato di duellare avrebbe dovuto deporre un guanto in strada e attraversare il fiume a nuoto in segno di codardia in questo caso deporre il guanto simboleggiava il disonore delle armi abbandonare il campo senza aver avuto il coraggio di battersi ma è uno dei pochissimi esempi che ho trovato in ambito cavalleresco senza contare che non vi è traccia di nessuno schiaffo di ceffoni menati col guanto della sfida insomma parrebbe che non se ne siano tirati molti nel medioevo tutt'al più potrebbe trattarsi di una pratica settecentesca nata dalle convenzioni del tempo specie se in ambito aristocratico nel manuale per duellanti The Code Duello del 1777 ad esempio viene indicato come un grave oltraggio quello di subire uno schiaffo un'offesa che avrebbe macchiato l'onore di un gentiluomo se non fosse stato seguito da appropriate scuse o in mancanza di esse da un bel duello per il resto non ci rimane che lo schiaffone ricevuto dallo sceriffo di Ruttingham nel film parodia Robin Hood un uomo in calzamaglia se questa storia ti ha appassionato seguimi e condividi l'episodio così non rischierai di perdere le prossime leggende affilate ciao leggende affilate gli episodi più avventurosi delle antiche cronache narrati da Lorenzo Manara